Abbiamo bruciato i tempi, io sono tornato sette giorni fa e oggi c'è la giunta. Una giunta licenziata in tutta fretta, quella proclamata dal governatore pugliese Nichi Vendola e che in molti hanno seguito in diretta sul nostro sito internet. 14 gli assessori del nuovo esecutivo Vendola, 7 le donne scelte. Riconfermata vice del governatore e assessora allo sviluppo economico Loredana Capone del PD. Riconfermato anche Fabiano Amati, sempre in quota PD, con delega alle opere pubbliche e alla protezione civile. Delega prima in mano a Vendola. Ancora una riconferma, quella di Angela Barbanente, tecnico all'urbanistica e qualità del territorio e beni culturali. Riconferma anche per il tecnico Silvia Godelli, che avrà la delega al turismo, al Mediterraneo e alla cultura. E per Elena Gentile, PD, che avrà la delega al welfare, lavoro, pari opportunità e pugliesi nel mondo. Per Dario Stefano, del PD, con delega all'agricoltura, caccia e pesca. Per il tecnico Tommaso Fiore, al quale resta la delega alle politiche sanitarie. Per Michele Pelillo, in quota PD, al quale viene riconfermata la delega a bilancio e programmazione, fondi strutturali, fondi FAS. Cambia invece la delega per Guglielmo Minervini, sempre in quota PD, che diventa assessore ai trasporti e all'infrastruttura strategiche. Prima invece assessore alla trasparenza. New Entry, Maria Campese, Federazione della Sinistra, con delega a personale, semplificazione e sport. Alba Sasso, SEL, con delega al diritto allo studio e alla formazione professionale. Nicola Fratoianni, attuale segretario regionale di Sinistra Ecologia e Libertà, al quale è stata affidata la delega alle politiche giovanili e attuazione di programma. E Lorenzo Nicastro, dell'IDV, con delega Ecologia e Ambiente. Vendola si è riservato alle deleghe di avvocatura regionale, politiche legislative, controllo interno, controllo strategico, politiche internazionali. Unica assente perché all'estero, Marida Dentamaro, in quota PD, diventata assessora con delega al federalismo e sud. Un governo che al suo atto di nascita rispetta il primo impegno assunto con gli elettori e con le elettrici. E cioè non considerare la parità di genere una di quelle esercitazioni retoriche in cui ci si impegna la domenica, dimenticando dal lunedì al sabato la fatica, l'impegno e il contributo che la voce delle donne può portare nelle istituzioni e nella politica. Importanti per Vendola le conferme di assessori che hanno combattuto battaglie importanti per il cambiamento della Puglia e ai rappresentanti del Partito Democratico che lo hanno accusato di aver agito senza alcuna concertazione, Vendola ha risposto. Abbiamo consultato tutti, abbiamo ascoltato tutti. Naturalmente io ho esercitato le mie prerogative nell'assoluto rispetto dei partiti, del loro peso politico ed elettorale, ma ho esercitato con assoluta determinazione le mie prerogative. Intanto la prima riunione di giunta si svolgerà martedì 4 maggio. All'aggiunta proporrò immediatamente l'anagrafe degli eletti e dei nominati, poi diciamo questo come una scelta, non è che proporrò, questa è una scelta. La proporremo poi anche al Consiglio perché tutto debba essere trasparente.